we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia che video di news che vi faccio vedere oggi come sapete finalmente tutti abbiamo disponibile la patch 8.50 scaricata ieri mattina che ha portato un sacco di novità per quanto riguarda il gameplay con la nuova modalità end game ma anche grandi grandi leaks per l'evento del vulcano che oramai è davvero imminente nel video di oggi ragazzi approfondiremo appunto l'evento vulcano e vi farò vedere due video assurdi ragazzi assurdi quello che capiterà modifiche alla mappa incredibili ma parleremo anche delle rune news non posso lasciarle raga vi tengo sempre aggiornati su quello che succede alle rune che poi ovviamente sono collegate al vulcano e generalmente leaks se ho tempo vi mostro delle cose che forse non avete ancora visto ma che vedremo presto tra cui l'inferno pack voglio però ragazzi ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xioderone grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live ma prima e qua ve la devo fare raga la domandina ve la devo troppo fare perché sono super curioso è una domanda che dai forse avete anche capito quale sono sono veggenti ragazzi qual è la tua arma preferita nella modalità end game lo scudo di capitano america le mani di iron man di grot o l'arco di sbriga ragazzi non conosco gli avengers ve lo dico ragazzi la vostra arma preferita qual è io bello il martello mi sembra un po hanno ripreso un po l'infinity blade dai diciamoci la verità il martello e l'infinity blade si muovono allo stesso modo ma il mio preferito è lo scudo è troppo figo lo scudo è OP prendo lancio scudi a destra a sinistra mi piace un botto la vostra arma preferita qua sotto nei commenti mi raccomando ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere volantemente che non so cosa vuol dire la schermata di caricamento della settimana numero 9 vi avevo anche fatto un video ieri sera proprio sul tardi per mostrarvi la stella segreta ragazzi che si trova proprio sulla punta della nave nei vichinghi quindi se avete completato tutte le sfide non dimenticate di andare a recuperare anche la stellina per confermare il completamento della vostra settimana ma andiamo avanti ragazzi e parliamo se partissero le immagini sarebbe fantastico della runa quella apparsa e anche già collocata nella sua posizione con l'aggiornamento 8.50 come vedete siamo nella discoteca una delle pochissime credo forse non l'unica forse ce n'è un'altra no forse è l'unica rimasta di discoteca attiva sulla mappa quella imboscata in poche parole nelle fabbriche abbiamo visto che dietro alla postazione del dj c'è un enorme buco dove appunto una runa aveva fatto la sua apparizione distruggendolo in maniera permanente e danneggiando anche durante il suo percorso altri oggetti fissi in game ma questa ragazzi è la situazione attuale disponde del saccheggio l'oggetto misterioso il portale potremmo chiamare perché alla fine ve l'ho già detto quella roba lì in mezzo è una porta e lo abbiamo anche visto ragazzi nell'evento ve ne parlo però domani perché è veramente lungo da spiegarvi è un evento vi ricordate l'evento delle farfalle ecco ci sarà un evento butterfly 2.0 ma ne approfondiamo un attimo domani è troppo lungo da spiegarvi i tre portali su cinque sono attivi ragazzi questo vuol dire che abbiamo oltrepassato la metà della percentuale per l'attivazione totale della dell'oggetto misterioso del portale a sponde del saccheggio aspettiamo che arrivino adesso le ultime due rune ragazzi e quindi tanta tanta roba ma quello di cui vi anticipavo a inizio del video è il vulcano parliamo un attimo e facciamo il punto della situazione intorno alle 20 di ieri sera si è sentito un boato fortissimo in game alcuni dicono addirittura che ha tremato la mappa questo ragazzi vuol dire come ci mostra anche questa immagine una immagine del vulcano di poche ore fa che l'eruzione è imminente il fuoco che esce dal vulcano si è intensificato nonostante avessimo visto che comunque ce n'era già abbastanza anche prima del boato e ragazzi abbiamo scoperto con la patch 8.50 ma anche un po prima in realtà che l'eruzione distruggerà delle città fondamentali della storia di fortnite vi faccio vedere prima due immagini e poi due spezzoni di video assurdi immagine numero uno ragazzi questa è corso commercio il render inserito nei file di gioco di quello che accadrà a corso commercio e il render inserito nei file di gioco di quello che accadrà a pinnacoli pendenti ragazzi se non ci credete vi faccio vedere questa immagine che è presa da questo video ragazzi questo è i pinnacoli ma guardate guardate ragazzi assurdo pinnacoli completamente rasa al suolo ragazzi devastata dalle rocce di fuoco perché il nome corretto di quello che capiterà all'uscita della bocca del vulcano saranno meteore rocce infuocate pinnacoli rasa totalmente al suolo ragazzi io sono sconcertato da questa guardate guardate l'orologio di pinnacoli questo ragazzi vi ho bloccato un attimo il video è l'orologio della torre di pinnacoli io sono sconcertato se davvero queste questo spezzone di video si confermasse vero e si confermerà così perché è fatto troppo troppo bene ed è stato trovato nei file di gioco insieme a pinnacoli come vi anticipavo ragazzi siamo invece a corso commercio e anche qua devastata alcuna alcune sezioni di corso i negozi completamente invasi da questo impatto con la lava addirittura che fuoriesce dalla parte centrale montagne di cenere e magma solidificato che vanno a toppare tutte le uscite e le ingressi dei negozi al centro un chest centrale un cratere davvero interessante solo metà di corso commercio però è ragazzi se vediamo è stata e sarà guarda questa immagine che è veramente incredibile una vista dall'alto di corso commercio è assurda ragazzi è veramente assurda sappiamo quindi che il vulcano distruggerà queste due siti ragazzi e quindi prepariamoci a vedere se nella season numero 9 verranno ricostruite o invece dovremo abituarci all'idea che pinnacoli e corso commercio rimarranno sempre nei nostri ricordi ma voglio chiudere ragazzi con questa immagine incredibile meravigliosa direttamente dal giappone o dalla cina io non parlo né il giapponese né il cinese ma ragazzi immagine ufficiale ad alta definizione dell'inferno pack bellissima come immagine mi piace davvero un sacco addirittura alcuni utenti che giocano da mobile come era già successo per lo scorso pack si sono ritrovati nel negozio la possibilità di acquistare l'inferno pack che vi ricordo comprende skin piccone 1000 v bucks e copertura per armi e veicoli ovviamente a tema sappiamo ragazzi molto probabilmente che il prezzo per noi sarà di 19 euro e 99 e sappiamo anche che ci sono le sfide collegate alla skin che completando semplicemente le nostre sfide giornaliere ci daranno lentamente 1000 v bucks beh ragazzi le notizie sono davvero finite anche se ne avrei ancora una tonnellata l'update mi piace la modalità nuova mi piace e quello che sta per accadere è davvero incredibile io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle otto e mezza ciao 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 Grazie per la visione!